tratto da ritratto in seppie di Isabel Allende, suggerito da Chiara Masotti. La notte in cui Elisa era entrata nella camera di Tao Te Ching, le cose andarono diversamente rispetto agli abbracci clandestini e frettolosi del suo primo amante in Cile. Quella notte scoprì alcune delle molteplici possibilità del piacere e fu iniziata alla profondità di un amore che sarebbe rimasto l'unico per il resto della sua vita. Con infinita pazienza, Tao Te Ching la spogliò poco a poco degli strati di timore accumulati e degli inutili ricordi. La accarezzò con infaticabile perseveranza fino a quando lei smise di tremare e aprì gli occhi, fino a quando si rilassò sotto le sue dita esperte, fino a quando la sentì fluttuare, aprirsi, illuminarsi. La sentì gemere, chiamarlo, supplicarlo. La vide arresa e umida, disposta a consegnarsi e a riceverlo con pienezza, fino a quando nessuno dei due fu più in grado di sapere dove si trovava, chi era, dove finiva l'uno e cominciava l'altra. Tao Te Ching la condusse oltre l'orgasmo, in una dimensione misteriosa in cui l'amore e la morte si assomigliavano, sentirono che i loro spiriti si espandevano, che i desideri e la memoria scomparivano, che si abbandonavano in un'unica immensa chiarità. Si abbracciarono in quello spazio straordinario, riconoscendosi, perché forse erano già stati lì insieme nelle vite precedenti e ci sarebbero tornati più e più volte nelle vite future, come aveva suggerito Tao Te Ching. Erano amanti eterni. Continuare a cercarsi e ritrovarsi era il loro karma, disse emozionato. Grazie a tutti.